Sono circa 250 i bambini nella fascia 0-3 anni iscritti ai niti del Comune di Fano. Lunedì prossimo, 7 settembre, le strutture riapriranno con una settimana di anticipo per i vecchi iscritti. Il servizio sarà attivo dalle 8 alle ore 14 con la possibilità di consumare il pasto oltre alla merenda del mattino. Il 14 poi inizieranno anche i nuovi inserimenti, mentre il 28 settembre si prevede il prolungamento dell'orario fino alle 17.30 per andare incontro alle esigenze di tante famiglie. Diverse sono le novità in vista delle norme anti-Covid, come la misurazione della temperatura all'ingresso con il termoscanner e le nuove modalità di erogazione dei pasti. In alcune scuole addirittura i refettori sono stati occupati per far posto alle aule, per la necessità di distanziamento che tutti sappiamo, eccetera. Quindi ci saranno delle modalità diverse, in alcuni casi il pasto sarà consumato in classe. In altri casi faremo dei turni comunque nei refettori che comunque ancora sono disponibili. Cercheremo di fare in modo comunque che chi consuma il pasto in classe non lo faccia sempre, sempre, ma possa turnarsi comunque con i refettori ancora disponibili per fare in modo che i ragazzini possano uscire comunque un po' dalla propria aula, dalla propria bolla, perché sono veramente delle bolle da questo punto di vista. L'erogazione del servizio come sarà? La manoporzione, il lunchbox, come si chiama, la lasciamo proprio come ultima razio, nei casi in cui magari non c'è l'ascensore, quindi non possiamo trasportare il carrello, eccetera. Naturalmente la lasciamo come ultima cosa perché richiede un'organizzazione del lavoro molto difficoltosa ed è anche molto costoso, tra l'altro, il lunchbox. Quindi pensiamo naturalmente a carrelli termici che ci fornirà comunque la ditta con la quale ancora stiamo facendo il servizio fino alla fine dell'anno, che arriveranno davanti alla classe, prepareranno un vassoio, esattamente come vediamo fare al bar, per cui tu prendi il caffè, il cappuccino, eccetera, nel vassoio che poi viene igienizzato. Quindi il carrello termico che arriva davanti alla classe, che prende il vassoio, mette sopra le porzioni del primo, del secondo, della pane, della frutta, eccetera, eccetera, e darà ad ogni bambino il proprio vassoio. Sia prima che dopo il pasto, come specifica la dirigente Grazia Mosciatti, i banchi, i vassoi e i piatti verranno igienizzati e sterilizzati. Per quanto riguarda il menù potrebbero esserci dei piccoli aggiustamenti dovuti al fatto che questa modalità di somministrazione magari in alcuni casi risulta un pochino più macchinoso, magari avere delle cose, però insomma saranno cose assolutamente lievi. Manteniamo il nostro menù comunque di qualità assolutamente e quindi insomma riteniamo comunque di poter fare un servizio assolutamente all'altezza degli standard che abbiamo sempre erogato.